In municipio ad Albino c'è stato un incontro per decidere come procedere nell'aria lungo il fiume Serio, dove alcuni carotaggi compiuti a settembre hanno evidenziato la presenza nel terreno di metalli pesanti. In questa zona il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca dovrebbe realizzare delle enormi vasche per contenere l'acqua del fiume, un progetto di cui si parla da decenni. I terreni fanno capo a 7-8 persone che ieri mattina erano presenti in comune per capire quali azioni dovranno intraprendere. Come riporta oggi l'eco di Berchiamo, il sindaco Fabio Terzi ha detto che il primo problema riguarda l'accertamento della responsabilità di chi ha portato questi materiali nell'aria. È poco probabile però che si possa risalire al responsabile dell'inquinamento. I depositi risalgono almeno a 30-40 anni fa, quando non c'era una normativa in materia. L'assessore all'ecologia Aldo Moretti ha ricordato che l'ASLA ha già escluso una contaminazione della falda acquifera, anche se il sindaco ha rivelato che una minima contaminazione c'è stata nell'area dove dovrebbe essere realizzata la seconda vasca più a valle. Ai proprietari il comune ha chiesto di presentare un'autodichiarazione ben motivata su modulistica che sarà fornita dall'ente stesso, in cui spiegano di non essere responsabili. I proprietari non saranno obbligati ad accollarsi i costi per il piano di caratterizzazione, che dovrebbe costare circa 15-20 mila euro, e per l'eventuale bonifica, i cui costi non sono stimabili. Il sindaco ha però precisato che le zone all'interno del perimetro individuato dai carotaggi saranno off-limits. Non potrà essere svolta nessuna attività, dall'orto allo sfalcio per il fieno, né potranno esserci edificazioni. I proprietari saranno tenuti a metterle in sicurezza, vietandone il passaggio.